La retrospettiva su Hesher, evento espositivo che negli ultimi anni ha battuto ogni record di visitatori, adesso per la prima volta a Napoli presenta, oltre alle opere amatissime dal basso pubblico, anche un'ampia sezione dedicata all'influenza che il suo lavoro e le sue creazioni hanno esercitato sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dal cinema alla pubblicità. Il visionario genio olandese è famoso per le sue prospettive impossibili e per le paradossali forme geometriche. In mostra un'inedita selezione di opere prodotte dall'artista durante il suo viaggio nella primavera del 1923 lungo la costiera amalfitana, luogo che lo segnerà profondamente anche a livello personale. La mostra, promossa dal Comune di Napoli, sarà aperta al pubblico dal 1 novembre fino al 22 aprile nel Palazzo delle Arti di Napoli.